Buon pomeriggio da Sicilia 24, ben ritrovati. Apriamo questa edizione di Spazio Notizia parlando di politica. Nello specifico di Cateno De Luca da Palermo è partito il tour di arruolamento per liberare la Sicilia dalla banda Bassotti politica, ha dichiarato l'ex sindaco di Messina. Tra i presenti il portavoce di Sicilia Vera, nonché presidente di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera, il quale ha sottolineato che da qui parte la nostra rivoluzione. L'europarlamentare Dino Giarrusso, leader del movimento nazionale Sud Chiama Nord, fondato proprio con De Luca e vicepresidente della regione designato, ha invece detto Oggi in molti stanno cercando di salire sul carro dei vincitori. Il giorno dopo è troppo facile. Partiamo da un dato fondamentale, avere un programma credibile fatto da persone credibili. E poi chiaramente ha parlato Cateno De Luca. Oggi da Palermo ha detto parte il tour di arruolamento. Il nostro appello è rivolto alle donne e agli uomini liberi che vogliono cambiare la Sicilia. La presenza stamane dei colleghi sindaci, degli amministratori comunali è un segnale importante. Noi vogliamo che il Parlamento siciliano sia finalmente popolato da persone che sanno amministrare. Basta con inquilini abusivi. Ogni adesione al nostro progetto politico è una pugnalata politica nei confronti della banda Bassotti. Queste le parole di Cateno De Luca. De Luca che ovviamente ha poi rivolto un attacco diretto a Nello Musumeci usando parole forti. Allora ve lo facciamo sentire. Ma quante imbroglione politicamente sto personaggio. Ancora ci deve dare i soldi dei buoni alimentari che il 28 marzo premilavente annunciò a tutto il mondo. e noi sindaci ci siamo trovati l'indomani con la gente dietro la porta. Imbroglione! Vedi, devi stare in campo e farò di tutto affinché tu sia ricandidato. Perché ti devi inchiodare alle tue bucchie! Ecco perché ti voglio candidato Musumeci! Ma ti faranno fuori. Purtroppo. Ma non per colpa mia, guarda. Ennesimo attacco dunque di De Luca Musumeci. Il giorno dopo le parole social dello stesso governatore siciliano. Il quale invece ha ribadito il suo pensiero sostanzialmente esternato anche nei giorni scorsi. Musumeci ha detto, affidando il suo pensiero a Facebook, di essere pronto a candidarsi. Chiaramente qualora il suo nome dovesse unire la coalizione di centrodestra. Allo stesso tempo si è detto pronto e disposto a fare un passo di lato. Così ha detto, così lo ha definito, nel caso in cui invece il suo nome dovesse essere divisivo. Ma poi ha lanciato una sorta di appello al centrodestra. Ovvero avere una risposta definitiva in tempi relativamente brevi. Il tutto dopo aver incassato l'ennesimo sostegno da parte di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che ovviamente spinge invece per la ricandidatura dello stesso Musumeci. Vedremo come andrà a finire. Abbiamo sentito intanto De Luca che dice, ti faranno fuori. Vedremo se in effetti sarà così. Ed ora invece parliamo di migranti e della disastrosa e terribile condizione dell'hotspot di Lampedusa. È una struttura davvero ormai al collasso. Il sindaco comunque ha assicurato che entro lunedì l'hotspot sarà svuotato. 600 migranti che verranno imbarcati sulla nave San Marco della Marina Militare verranno portati a Porto Empedocle. Domani, probabilmente, la stessa nave tornerà a Lampedusa per imbarcarne altri 600. Migliorate leggermente le condizioni meteo, poi, con il traghetto di linea verranno spostati un altro centinaio di ospiti. Contiamo entro lunedì di svuotare completamente l'hotspot. Lo ha dichiarato, seguendo le operazioni di trasferimento dei migranti, il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. È stata fatta un'operazione straordinaria di pulizia della struttura di primissima accoglienza, ha aggiunto il primo cittadino. Il prefetto di Agrigento e il direttore dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo faranno un sopralluogo all'hotspot di Contrada in Briacola. Poi verrà fatta una riunione con le forze dell'ordine e i gestori del centro ad accoglienza, ha concluso Mannino, per valutare cosa sta accadendo e come comportarsi. L'estate è appena cominciata e i flussi di migranti rispetto agli anni passati sono già molto più numerosi. E a proposito di migranti e dell'hotspot di Lampedusa, vi mostriamo un post social proprio del presidente Nello Musumeci. Ottobre 2020, scrive il governatore, a Palazzo Chigi presentai un dossier con il quale si evidenziavano tutte le carenze strutturali e sanitarie dell'hotspot di Lampedusa e di altri centri presenti sul territorio siciliano. Lo Stato, ottenendo l'annullamento di una mia ordinanza, rivendicava la primaria competenza sulla materia dell'immigrazione. Dissi bene, la eserciti luglio 2022, sbarchi cresciuti a dismisura, condizioni igienico-sanitarie sempre più precarie, la mattanza degli innocenti che cresce con l'aumento dei naufragi. Sarebbe questa l'integrazione e l'umanità a cui la sinistra si riempie la bocca e l'Europa continua a girarsi dall'altro lato? Ho detto e ribadisco, scrive Musumeci, che non è possibile fare pagare alla Sicilia e alle sue isole il peso di questo fallimento politico e umanitario. Lo Stato rivendica i suoi poteri? Bene, faccia qualcosa, ma lo faccia subito, scrive appunto Musumeci, postando anche poi alcune foto della situazione nell'hotspot di Lampedusa, che come detto è piuttosto drammatica perché è una struttura assolutamente al collasso con oltre 1700 ospiti a fronte di circa 350 posti disponibili. Dunque vedremo come si evolverà anche quest'altra situazione, lo ricordiamo con il sindaco di Lampedusa che ha detto entro lunedì l'hotspot sarà svuotato, vedremo se in effetti sarà così. Cambiamo adesso argomento e parliamo di emergenza incendi con una notizia che arriva da Messina, vi mostriamo intanto queste immagini, un disastroso incendio è divampato nel deposito di un'azienda che smaltisce rifiuti a Messina e località Pistunina, questo è successo nella giornata di ieri. Secondo i primi accertamenti a scatenare il rogo sarebbe stato, pensate un po', un'anziana donna, la quale avrebbe l'abitudine, anziché fare la raccolta differenziata, di bruciare i pochi rifiuti che produce. Stavolta però il suo gesto ha causato davvero ingenti danni, come si può vedere anche da queste immagini con l'intervento dei vigili del fuoco, ovviamente come sempre provvidenziale. La signora è stata ovviamente denunciata per incendio colposo e combustione di rifiuti. Cambiamo ancora argomento, ennesimo incidente stradale mortale in Sicilia, stavolta una 56enne di Palma di Montechiaro, Giuseppe Lauricelle, lui ad aver perso la vita, è morto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in seguito a un grave scontro, un grave incidente avvenuto sulla statale 115 all'uscita di Villaggio Mosè in territorio di Agrigento. L'uomo ha perso sostanzialmente il controllo del suo camion per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito fuori strada e poi si è ribaltato. Trasportato in elisoccorso al Sant'Elia, gli sono stati riscontrati gravissimi traumi alla testa e al torace, purtroppo sono stati inutili i tentativi dei medici di salvarlo. Così come è stato inutile il tentativo di soccorso effettuato nei confronti di un imprenditore di 59 anni, Salvatore Ruggero, il quale è morto nel territorio di Letoianni, siamo quindi nel Messinese dopo essere stato assalito da uno sciame di api. L'uomo si trovava in un terreno di Contrada San Filippo e dopo aver aperto la porta di un casolare è stato assalito dagli insetti che lo hanno colpito soprattutto al volto e sulla testa. Un operaio ha informato il 118, sono arrivati i soccorritori ma purtroppo il 59enne era già morto, vittima molto probabilmente di uno shock anafilattico scatenato proprio dalle punture delle api. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri di Taormina mentre quelli di Letoianni hanno avviato degli accertamenti sulla vicenda con la procura che ha invece disposto il sequestro della Salma e l'esecuzione dell'autopsia. Cambiamo ancora argomento, adesso una notizia che arriva invece da Caltanissetta, una donna di 45 anni tornata da una recente missione umanitaria in Congo è stata ricoverata presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con una diagnosi di malaria. La 45enne ha accusato febbre, spossatezza e dolori muscolari. I sintomi e la provenienza della donna hanno insospettito il primario del pronto soccorso il quale ha inviato le analisi all'ospedale Cervello di Palermo dove è stato confermato il caso di malaria. Il farmaco necessario in questi casi non è in commercio in Italia ma è stato subito reperito e le condizioni della donna sono adesso stabili. Ci sono altre due persone che erano con lei in Congo e che sembra abbiano contratto entrambi la malaria e uno dei due sarebbe in particolari gravi condizioni e si trovano comunque in altri ospedali. Parliamo invece del vaiolo delle scimmie, un altro caso in Sicilia dopo quelli recenti di Palermo e Catania, in questo caso si tratta di un 31enne di Gela il quale dieci giorni fa era tornato da Malta. Il 31enne che da alcuni giorni accusava febbre con linfonodi aumentati di volume è stato sottoposto a tampone che è stato poi inviato al laboratorio del Policlinico di Palermo dove è stata effettuata la diagnosi con il test genetico specifico usato anche dall'Istituto Superiore di Sanità. Il paziente adesso fortunatamente sta meglio, si trova in isolamento domiciliare a Gela e sarà monitorato per un periodo di circa due quattro settimane. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo virtualmente a Bronte nel Catanese dove una donna stanca delle continue violenze subite dal marito lo ha denunciato, l'uomo alla anche minacciata di morte le comunque si è rivolta ai carabinieri che poi lo hanno arrestato. La procura distrettuale della Repubblica ha richiesto e ottenuto nei confronti di un 46enne di Bronte, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, la misura cautelare in carcere. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo il quale si sarebbe reso responsabile di continui episodi di violenza nei confronti della moglie nel corso della loro vita matrimoniale iniziata nel 96. Numerosi sarebbero stati gli episodi nel corso degli anni ma nei primi giorni dello scorso giugno l'uomo l'avrebbe anche accusata di presunte infedeltà minacciandola così di morte alludendo in particolare a un fatto di cronaca nera nel quale una donna del posto era stata uccisa dal marito. La conseguente decisione della donna di procedere alla separazione avrebbe scatenato l'ira dell'uomo il quale avrebbe minacciato non solo di distruggere la casa ma anche di ucciderla. Il 46enne avrebbe inoltre esteso le sue invettive anche contro i genitori della moglie ancora minacciandola di morte qualora non avesse ritirato la denuncia sporta nei suoi confronti. Il comportamento aggressivo e violento dell'uomo è stato confermato anche dal figlio minore della coppia ma verosimilmente per timore delle minacce del coniuge la donna ha comunicato ai carabinieri di Bronte di non voler più procedere nei suoi confronti aggiungendo a discolpa di quest'ultimo che si era anche scusato con lei nonché addirittura affermando che il suo stringerle le mani al collo era da intendersi come uno scherzo e non come una violenza fisica. Successivamente però dopo soli cinque giorni la donna forse per un travaglio interiore che le ha consentito di comprendere la necessità di porre fine al comportamento violento e vessatorio del marito si è nuovamente recata presso la stazione dei carabinieri comunicando stavolta in maniera chiara e definitiva la propria volontà di procedere nei confronti dell'uomo il quale è stato successivamente associato al carcere catanese di piazza Lanza. Ed ora parliamo della gestione della celebre bellissima scala dei turchi è stata presa una decisione importante a gestirla sarà il comune di Real Monte. Vediamo il servizio. La tutela e la gestione della scala dei turchi viene affidata per un anno al comune di Real Monte in attesa del trasferimento definitivo della titolarità alla stessa amministrazione a garanzia del sereno svolgimento della stagione estiva e del flusso turistico. E' questa la soluzione individuata da tutti i soggetti privati e istituzionali coinvolti nella risoluzione dell'annosa questione riguardante la gestione della scogliera di Marna Bianca nell'Agrigentino grazie all'impegno del governo musumeci che da tempo si sta adoperando per trovare la sintesi tra le diverse parti in causa. Alla presenza dell'assessore regionale al territorio e all'ambiente Toto Cordaro nei locali della presidenza della regione è stata firmata la convenzione tra il sindaco di Real Monte e il legale rappresentante del proprietario con la quale si stabilisce che l'amministrazione comunale avrà il compito per 12 mesi di custodire il sito e adottare ogni intervento idoneo alla custodia alla gestione e all'uso temporaneo al fine di evitare pericoli nei confronti di bagnanti e soggetti terzi che usufruiscono di questo luogo. Una soluzione temporanea in attesa che l'Agenzia delle Entrate possa esprimere un parere richiesto riguardo al trattamento fiscale da applicare prima di procedere alla transazione definitiva del bene al comune. La sinergia istituzionale arriva alle soluzioni quando c'è la volontà di cooperare nell'interesse della Sicilia, ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il governo regionale ha aggiunto è stato fortemente impegnato nella composizione di una vicenda complessa legata alla titolarità di un bene di grande pregio naturalistico nell'interesse esclusivo della sua tutela e della sua valorizzazione. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. A dopo! Spazio Notizia ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. A presto! Spazio Notizia ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. A presto!